A Maria del Catechismo Maggiore di San Pio X, oggi leggeremo e commenteremo la parte dell'Eucaristia. Si trova proprio alla parte quarta, al capitolo quarto, diviso in cinque paragrafi, dove si parla della natura dell'Eucaristia e di come bisogna comunicarsi. La mente, ci saranno le domande e poi le risposte. Ecco, quindi, nel primo paragrafo, della natura di questo sagramento e della presenza reale di Gesù Cristo nel medesimo. Quindi, agli articoli 596-621. 596. Che cos'è il sacramento dell'Eucaristia? L'Eucaristia è un sacramento nel quale, per l'ammirabile conversione di tutta la sostanza del pane nel corpo di Gesù Cristo e di quella del vino nel suo prezioso sangue. Si contiene veramente, realmente e sostanzialmente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del medesimo Gesù Cristo, Signore nostro, sotto le specie del pane e del vino, per essere nostro nutrimento spirituale. Quindi, questa è la definizione dell'Eucaristia, dove si parla appunto della presenza reale di Gesù, che diventa appunto, sotto le specie del pane e del vino, nostro nutrimento spirituale per la nostra anima. 597. Viene l'Eucaristia lo stesso Gesù Cristo, che è nel cielo e che nacque in terra della Santissima Vergine? Sì, nell'Eucaristia vi è veramente lo stesso Gesù Cristo, che è nel cielo e che nacque in terra dalla Santissima Vergine. 598. Perché credete voi che nel sacramento dell'Eucaristia è veramente Gesù Cristo? Io credo che nel sacramento dell'Eucaristia è veramente presente Gesù Cristo, perché lo ha detto egli stesso e me lo insegna la Santa Chiesa. Quindi, che noi troviamo poi, ecco, nella Sagra Scrittura, nella tradizione, quindi nell'insegnamento del Magistero. Numero 599. Qual è la materia del sacramento dell'Eucaristia? La materia del sacramento dell'Eucaristia è quella adoperata da Gesù Cristo, cioè il pane di frumento e il vino di vite. Numero 600. Qual è la forma del sacramento dell'Eucaristia? La forma del sacramento dell'Eucaristia consiste nelle parole usate a Gesù Cristo. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. 601. Che cosa è dunque l'ostia prima della consagrazione? L'ostia prima della consagrazione è pane. E dopo la consagrazione che cos'è l'ostia? Dopo la consagrazione l'ostia è il vero corpo di nostro Signore Gesù Cristo, sotto le specie del pane. 603. Nel calice, prima della consagrazione, che cosa vi è? Nel calice, prima della consagrazione, vi è del vino con alcune gocce d'acqua. 604. Dopo la consagrazione, che cos'è nel calice? Dopo la consagrazione nel calice è il vero sangue di nostro Signore Gesù Cristo, sotto le specie del vino. 605. Quando si fa la conversione del pane nel corpo e del vino nel sangue di Gesù Cristo? 605. La conversione del pane nel corpo e del vino nel sangue di Gesù Cristo si fa nell'atto stesso in cui il sacerdote, nella Santa Messa, pronunzia le parole della consagrazione. 606. Che cos'è la consagrazione? 607. La consagrazione è la rinnovazione, per mezzo del sacerdote, del miracolo operato a Gesù Cristo, nell'ultima cena, di mutare il pane e il vino nel suo corpo e nel suo sangue adorabile, dicendo «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». 607. Come è chiamata dalla Chiesa la miracolosa conversione del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù Cristo? La miracolosa conversione, che ogni giorno si opera sui nostri altari, è chiamata dalla Chiesa transustaziazione. 608. Chi ha dato tanta virtù alle parole della consagrazione? Ha dato tanta virtù alle parole della consagrazione lo stesso Signore nostro Gesù Cristo, il quale è Dio onnipotente. 609. Dopo la consagrazione non resta niente del pane e del vino? Dopo la consagrazione restano soltanto le specie del pane e del vino. 610. Che cosa sono le specie del pane e del vino? Le specie sono la quantità e le qualità sensibili del pane e del vino, come la figura, il colore, il sapore. 611. In che maniera possono restare le specie del pane e del vino senza la loro sostanza? 612. Le specie del pane e del vino restano mirabilmente senza la loro sostanza, per virtù di Dio onnipotente. 612. Sotto le specie del pane vi è solo il corpo di Gesù Cristo e sotto le specie del vino vi è solo il suo sangue? 712. Tanto sotto le specie del pane e del vino vi è tutto Gesù Cristo vivente, in corpo, sangue, anime e divinità. 713. Quindi sia nelle specie del pane e del vino c'è tutto Gesù. 813. Mi sapreste dire perché tanto nell'ostia quando nel calice vi è tutto Gesù Cristo? 913. Tanto nell'ostia quando nel calice vi è tutto Gesù Cristo, perché egli è nell'Eucaristia, viva e immortale come nel cielo. 913. Perciò dove è il suo corpo vi è anche il sangue, l'anima e la divinità. 913. E dove è il sangue vi è ancora il corpo, l'anima e la divinità, essendo tutto questo inseparabile in Gesù Cristo. 1013. Quando Gesù è nell'ostia, cessa di essere in cielo? 1013. Quando Gesù è nell'ostia, non cessa di essere in cielo, ma si trova nel medesimo tempo, in cielo e nel Santissimo Sacramento. 1115. Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate del mondo? 1116. Come può essere che Gesù Cristo si trovi in tutte le ostie consacrate? 1115. Gesù Cristo si trova in tutte le ostie consacrate per onnipotenza di Dio al quale niente è impossibile. Quando si rompe l'ostia, si rompe il corpo di Gesù Cristo? Quando si rompe l'ostia, non si rompe il corpo di Gesù Cristo, ma si rompono solamente le specie del pane. 1118. In quale parte dell'ostia resta il corpo di Gesù Cristo? 1218. Il corpo di Gesù Cristo resta intero in tutte le parti nelle quali l'ostia è stata divisa. Quindi, per questo, anche nei frammenti, ecco, Gesù è tutto presente. Quindi, per questo, il sacerdote fa molta attenzione, ecco, anche ai frammenti che, appunto, poi possono, si possono trovare, appunto, sulla patena. Quindi, bisogna anch'essi consumare, perché anche nella più piccola, più piccolo frammento, è presente tutto Gesù. 619. Gesù Cristo è tanto in un'ostia grande quando nella particella di un'ostia? Tanto in un'ostia grande quando nella particella di un'ostia vi è il medesimo Gesù Cristo. Quindi, poi il numero 620. Per quale motivo si conserva nelle Chiese la Santissima Eucharistia? La Santissima Eucharistia si conserva nelle Chiese affinché sia adorata dai fedeli e portata agli infermi secondo il bisogno. 621. Si deve adorare l'Eucharistia? L'Eucharistia si deve adorare da tutti, perché contiene veramente, realmente e sostanzialmente lo stesso nostro Signore Gesù Cristo. Quindi è questo il primo paragrafo che, appunto, è stato illustrato in modo così mirabile e preciso la natura del sacramento di Gesù presente, appunto, nell'ostia e nel sangue consacrati. Ora vediamo delle istituzioni e degli effetti del sacramento dell'Eucharistia, i numeri 622-626. 622. In quale tempo Gesù Cristo ha istituito il sacramento dell'Eucharistia? Gesù Cristo ha istituito il sacramento dell'Eucharistia nell'ultima cena che fece coi Suoi discepoli la sera avanti la Sua Passione. Quindi il Giovedì Santo. Perché Gesù Cristo ha istituito la Santissima Eucharistia? Gesù Cristo ha istituito la Santissima Eucharistia per tre principali ragioni. Numero 624. Perché Gesù Cristo istitui questo sacramento sotto le spese del pane e del vino? Gesù Cristo istitui questo sacramento sotto le spese del pane e del vino perché l'Eucharistia dove essere nostro nutrimento spirituale. Era perciò conveniente che ci venisse data in forma di cibo e di bevanda. 625. Quali effetti produce in noi la Santissima Eucharistia? Gli effetti principali che la Santissima Eucharistia produce in chi la riceve degnamente sono questi. primo, conserva e accresce la vita dell'anima che è la grazia, come il cibo materiale, sostiene e accresce la vita del corpo. Secondo, rimette i peccati veniali e preserva dei mortali. Terzo, produce spirituale consulazione. Numero 626. La Santissima Eucharistia non produce in noi altri effetti? Sì, la Santissima Eucharistia produce in noi altri effetti, cioè indebolisce le nostre passioni e in specie ammorza in noi le fiamme della concupiscenza. Secondo, accresce in noi il fervore della carità verso Dio e verso il prossimo e ci aiuta a operare in uniformità ai desideri di Gesù Cristo. Terzo, ci dà un pegno della gloria futura e della stessa resurrezione del nostro corpo. Quindi vediamo quali mirabili effetti in noi di questo augustissimo sacramento. Ora vediamo, ecco la terza parte, il terzo paragrafo, delle disposizioni necessarie per ben comunicarsi. Ecco, ai numeri 627 e 641. Il sacramento, numero 627, il sacramento dell'Eucharistia produce sempre in noi i suoi frutti, i suoi meravigliosi effetti? Il sacramento dell'Eucharistia produce in noi i suoi meravigliosi effetti quando si riceve con le dovute disposizioni. 628. Quante cose sono necessarie per fare una buona comunione? Per fare una buona comunione sono necessarie tre cose. Primo, essere in grazia di Dio. Essere digiuno, ecco, secondo le nuove normative, da un'ora fino all'atto della comunione. Terzo, sapere che cosa si va a ricevere e accostarsi alla santa comunione con devozione. 629. Che cosa vuol dire essere in grazia di Dio? Essere in grazia di Dio vuol dire avere la coscienza pura e monta da ogni peccato mortale. 630. Chi sa di essere in peccato mortale? Che cosa deve fare prima di comunicarsi? Chi sa di essere in peccato mortale? Deve prima di comunicarsi fare una buona confessione. Non bastando l'atto di condrizione perfetta senza la confessione a chi è in peccato mortale per comunicarsi come conviene. 631. Perché non basta neppure l'atto di condrizione perfetta a chi sa di essere in peccato mortale per potersi comunicare? Perché la Chiesa ha stabilito per rispetto a questo sacramento che chi è colpevole di peccato mortale non ardisca di fare la comunione se prima non si è confessato. 632. Chi si comunicasse in peccato mortale riceverebbe Gesù Cristo, ma non la sua grazia. Anzi, commetterebbe sacrileggio e si farebbe meritevole della sentenza di dannazione. Ecco, quindi come diceva San Paolo, attira la condanna, no? Quindi non si può ricevere Gesù in peccato mortale, se no si commette un peccato ancora più grave, peccato di sacrilegio. E quindi non aumenta la grazia, anzi. Numero 633. Qual è il digiuno che si richiede prima della comunione? Prima della comunione si richiede il digiuno naturale, il quale si rompe per ogni piccola cosa che si prende per modo di cibo o di bevanda. L'acqua si può bere. 634. Se uno inghiottisce qualcosa rimasta fra i denti o qualche coccia d'acqua entrata in bocca, si può ancora comunicare? Chi inghiottisce qualcosa ancora rimasta fra i denti, si può ancora comunicare? Perché queste cose o non si prendono per il modo di cibo o di bevanda o ne hanno già perduta la natura. 635. E' mai permessa fare la comunione senza essere digiuno? Il fare la comunione senza essere digiuno è permesso agli infermi che sono in pericolo di morte. E poi è stata concessa anche la facoltà anche agli infermi che non sono in pericolo di morte, quindi anche per gli infermi è permessa, quindi gli infermi non sono tenuti al digiuno. La comunione poi fatta dagli infermi in pericolo di morte si chiama viatico perché li sostenta nel viaggio che fanno da questa vita all'eternità. 636. Che cosa vuol dire sapere ciò che si va a ricevere? Sapere ciò che si va a ricevere vuol dire conoscere quelle cose che si insegnano intorno a questo sacramento nella dottrina cristiana e crederle fermamente. Quindi riconoscere in quell'ostia la presenza di Gesù, quindi che Gesù è presente in quell'ostia. 637. Che cosa vuol dire comunicarsi con devozione? Comunicarsi con devozione vuol dire accostarsi alla santa comunione con umiltà e modestia sia nella persona come nel vestito e fare la preparazione prima e ringraziamento dopo la santa comunione. Quindi è anche importante vestirsi bene, quindi non sbracciati o anche, non so, con minigono, indumenti attillati, eccetera. 638. In che consiste la preparazione prima della comunione? La preparazione prima della comunione consiste in trattenersi per qualche tempo a considerare chi andiamo a ricevere e chi siamo noi e in fare atti di fede, di speranza, di carità, di contrizione, di adorazione, di umiltà e desiderio di ricevere Gesù Cristo. 639. In che consiste il ringraziamento dopo la comunione? Il ringraziamento dopo la comunione consiste nel trattenerci raccolti ad onorare dentro di noi stessi il Signore, rinnovando gli atti di fede, di speranza, di carità, di adorazione, di ringraziamento, di offerta e di domanda, soprattutto quelle grazie che maggiormente sono necessarie per noi e per coloro per i quali siamo obbligati a pregare. Quindi sono i momenti più preziosi dove parliamo con Gesù, quindi rinnoviamo gli atti di fede, di speranza, di carità, di ringraziamenti, di offerta e domanda e chiediamo anche quelle grazie che abbiamo più bisogno. Quindi sono veramente momenti importanti, ecco, e bisogna stare attenti, ecco, quindi fare bene il ringraziamento, che normalmente dovrebbe almeno durare dieci minuti e un quarto d'ora, ecco, quando durano le specie sacramentali. 640. Che cosa si deve fare nel giorno della comunione? Nel giorno della comunione si deve stare raccolti per quanto è possibile occuparsi in opere di pietà e adempere con maggiore diligenza i doveri del proprio Stato. 641. Dopo la Santa Comunione, quanto tempo resta in noi Gesù Cristo? Dopo la Santa Comunione Gesù Cristo resti in noi con la sua grazia finché non si pecca mortalmente e con la sua reale presenza resti in noi finché non si sono consumate le specie sacramentali. Quindi cerchiamo, ecco, di restare in chiesa e fare il ringraziamento, ecco, dopo la Santa Comunione. Ora vediamo della maniera di comunicarsi, ecco gli articoli numeri 642 e 645. Qua bisogna presentarsi nel lato e ricevere la Santa Comunione. Nel lato e ricevere la Santa Comunione bisogna essere incinocchiati, tenere la testa mediocremente alzata, gli occhi modesti rivolte alla sagra particola, la bocca sufficientemente aperta e la lingua un po' avanzata sulle labbra. Quindi, ecco, bisogna essere, appunto, avere questa accortezza. Ecco, bisogna possibile stare incinocchio, quindi anche un diritto del fedele, anche se si può andare e stare in piedi, però è consigliabile ricevere incinocchio il sacerdote, non può non darla proprio perché ci sono anche delle disposizioni della Santa Sede che il fedele ha il diritto, se chiede di ricevere la Comunione, anche incinocchio. Numero 643, come bisogna tenere la tovaggia o la tavoletta della Comunione? La tovaggia o la tavoletta della Comunione bisogna tenerla in modo che raccolga la sagra particola qualora essa venisse a cadere. Quindi bisogna fare attenzione, no? Quindi anche con il piattino, ci dovrebbe essere un inserviente, o almeno qualcuno che tenga, quindi, il piattino affinché non cadano le ostie, anche i frammenti, abbiamo detto, bisogna essere attenti, sia che non cadano le ostie o i frammenti. 644, quando si deve inghiottire la sagra particola? Dobbiamo procurare di inghiottire la sagra particola più presto che si può, per qualche tempo, astenerci dallo sputare. 645, se la sagra particola si attaccasse al palato, che cosa si dovrebbe fare? Se la sagra particola si attaccasse al palato, la si dovrebbe distaccare con la lingua e non mai col dito, perché poi dopo, abbiamo detto, anche nei frammenti o parti, quando si suona ancora le specie del pane, è presente Gesù. Quindi è meglio, appunto, attenersi a questo. Vedete, saggiamente il Papa dà queste indicazioni. Ora vediamo la parte quinta del precetto della comunione, i numeri 646-650. 646, quando vi è l'obbligo di comunicarsi? Vi è l'obbligo di comunicarsi in ogni anno, periodo di Pasqua. Ciascuno è poi in pericolo di morte. 647, in quale età comincia a obbligare il comandamento della comunione pasquale? Il comandamento della comunione pasquale comincia a obbligare nell'età in cui il fanciullo è capace di accostarvisi con le dovute disposizioni. 648, peccano coloro che hanno l'età capace per essere ammessi la comunione e non si comunicano? 648, coloro che, avendo l'età capace per essere ammessi la comunione, non si comunicano o perché non vogliono, perché non sono per la loro colpa istruiti, peccano senza dubbio. Peccano altresì i loro genitori o chi ne fa le veci se la dilazione della comunione avviene per loro colpa e non dovranno rendere grande conto a Dio. E questo è perché appunto Gesù ha detto che per avere la vita dobbiamo nutrirci del suo corpo, è proprio un precetto che Gesù ci dà, quello di nutrirci del suo corpo. Quindi non possiamo non nutrirci di Gesù. Quindi oltre al periodo pasquale, quindi anche quando uno ha la possibilità di ricevere, proprio perché ha l'età, dovrebbe appunto accostarsi, naturalmente con le dovute disposizioni. Numero 649, cosa buona e utile è comunicarsi spesso? E cosa ottima è comunicarsi spesso? Perché si faccia con le disposizioni dovute. 650, con quale frequenza si può andare alla comunione? Ciascuno può andare alla comunione con quella maggiore frequenza possibile. Sempre seguendo, ecco, il fatto che dovrebbe essere sempre in grazia di Dio, no? Quindi in peccato grave non si può ricevere la Santa Comunione. Quindi per questo è importante anche fare la confessione frequente. Ecco, abbiamo terminato questa parte del capitolo quarto sull'Ecoarestia. Ho visto che ho fatto pochi commenti proprio perché queste definizioni dottrinali da parte di San Pio X sono veramente illuminanti. In modo sintetico viene detta tutta la dottrina cattolica sulla Eucharistia. E che purtroppo tanti oggi, dobbiamo dire anche tra i cristiani, non conoscono. Quindi vedete che questo catechismo è veramente intramontabile. Sì, poi si può anche sempre approfondire, ecco, in ogni articolo. Però siccome abbiamo il tempo limitato, ecco, ci siamo limitati anche noi a leggere questi articoli e naturalmente a precisare solo alcune parti. Dovremmo rileggere, ecco, e anche meditare potrebbe essere questa una cosa buona. E poi soprattutto mettere in pratica. Quindi invito ciascuno di voi a procurarsi il testo. Il cadisimo maggiore di San Pio X, questo è dell'edizione di San Paolo del 2014. Leggere e meditare e poi soprattutto mettere in pratica. Quindi per crescere sempre di più, ecco, nell'amore dell'Ecoarestia e vivere di lui. Chiediamo questa grazia alla Madonna. Chiediamo la grazia di crescere sempre di più nella fede e nell'amore verso Gesù sacramentato. Grazie, Ave Maria, alla prossima.